Due di due, 2015, Monferrato Rosso d'Occa. Con questa denominazione noi produciamo un uvaggio, Barbera e Cabernet Sauvignon. Abbiamo un 60% di Cabernet Sauvignon e un 40% di Barbera. Entrambi i vini vengono affinati in barrique, separatamente, anche la vinificazione viene separata, e decidiamo la percentuale della cuvée giusto un paio di mesi prima dell'imbottigliamento. Questo per poter raggiungere quello che è il nostro obiettivo, cioè avere due vini, due sentori che si equilibrano. Infatti, anche questo è il nome del vino, cioè questo vino io l'ho prodotto per me e per mia sorella, due di due, come due uve, Barbera e Cabernet. Siamo anche noi molto diversi, ma andiamo d'amore e d'accordo insieme, specialmente con l'affinamento. Il vino si presenta nel bicchiere di un colore rosso rubino intenso, molto carico, più carico della Barbera, normalmente. Questo è dovuto anche al Cabernet. i sentori, abbiamo sentori di peperone, pepe, caffè, marasca e ciliegia, che sono caratteristiche anche della Barbera, è un leggero sentore della vaniglia. Entrambi i vini vengono affinati in barrique, il Cabernet è stato affinato per quest'annata circa 12 mesi, la Barbera 14 mesi. In bocca, il vino è secco, pulito, fruttato, polposo, con una nota tannica dovuta al Cabernet. Un vino che si sposa perfettamente ai piatti sapidi, piace molto l'abbinamento di questo vino con l'agnello soprattutto, carré d'agnello, formaggi, brasati, un vino per gli amici, un vino per due di due. Salute!